bella ragazzi siamo a 15 kill voglio fare il mio nuovo record oh luca non ti da uccidere olè raga 16 kill il mio record è 17 qui a sinistro c'è l'altra gente infatti le devi lasciare e arriva alle 20 bombe la palla no grazie gioco mattina no 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 non vi chilate non vi chilate non vi chilate no e l'hanno ucciso chi è stato uccidere ma l'ho ucciso io no scialla non ha senso no luca luca mancava una kill e stava 17 kill eh lo so dai fammi eh in sette dovrei killare tutti atti morti eh ma peppa che la rufa vai vai ci siamo messi bene ma bella bro grande sono io 20 Luca non sarà va bene no si spara lasciamelo bianco e io lo killo e che ne so io è blu ok bianco lascia ok lasciami colpa a salto e poi fammi fare gli altri ah Luca ti prego questi tre metri devi fare tutti a me perché cosa arriva alle 20 ecco spoli qui qui ed è la sua no non mi dia che ci stanno fattando no 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 bro mi fa vedere un attacco di carica no bro no bro forse quello è un lama ah mi è in botta dell'ama no si fattano come on alè luca perca l'ultima kill tu fai aprire la lama ma luca luca come on come on ma scialla adesso mamma via no